Il tema della sicurezza e l'attenzione del territorio della Valle Seriana da anni ed è un argomento che è ancora al centro del dibattito. Sì, ecco, la sicurezza è una delle richieste, fra le diverse richieste, una delle richieste proprio dei cittadini. Dal mio punto di vista la sicurezza dovrebbe essere un servizio completamente a carico di chi la gestisce. Nel caso della polizia locale, per esempio, per i comuni che hanno la polizia locale i costi vanno considerati a fondo perduto, a mio avviso. Cioè le eventuali sanzioni non possono essere considerate un parametro di produttività. Teoricamente se l'efficienza della polizia locale fosse al massimo e quindi tutti rispettassero le regole e la civile convivenza, non solo il codice della strada, le sanzioni dovrebbero tendere a zero o essere a zero. E purtroppo sappiamo che non è così. Però questo è il concetto, un po' come dovrebbe essere la polizia locale, come i carabinieri o la polizia di Stato, dove garantiscono la sicurezza, poi certo fanno le sanzioni, però non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è garantire sicurezza. E questo a tutti i livelli. Ma perché la comunità montana si occupa di sicurezza? Ma è stata una mia richiesta quando già nel 2009 vennero fuse le due comunità montane e si creò l'unica comunità montana della Valle Seriana. E soprattutto col venire o meno del ruolo amministrativo della provincia, la comunità montana ha assunto sempre più un ruolo di coordinamento dei comuni facenti parte. Per tutte le problematiche sovracomunali, perché naturalmente ogni comune si gestisce il suo territorio, però ci sono dei temi, quali uno è la sicurezza, e ce ne sono molti altri, le varie piste ciclabili, eccetera, poi parla l'assessore Connolti, che richiedono un coordinamento sovracomunale. E l'ente, diciamo a mio avviso, ma a nostro avviso, perché il nostro progetto è il progetto Valle Seriana, è l'ente coordinatore per l'intera valle, quindi le istanze della valle, compresa la viabilità, anche se non è compito della comunità montana, vanno portate avanti in modo globale da tutti i comuni e rappresentati in questo caso dalla comunità montana. Comunque alla fine del 2010 io ho la mia prima esperienza di assessore in comunità montana e proposi alla Giunta di allora di investire una parte dell'avanzo di amministrazione per creare una struttura informatica o telematica che controllasse tutti gli accessi alla valle, per aumentare la sicurezza e fornire alle forze dell'ordine uno strumento moderno e potente di contrasto alle bande organizzate che già allora, adesso sono diminuite da quanto mi dicono le forze dell'ordine, venivano queste bande fuori dalla valle a compiere furti prevalentemente nelle case e nelle aziende. E nacque così il TOR, era un progetto ambizioso, non di facile realizzazione, soprattutto per la conformazione della nostra valle. Montagna, valle con le dinamazioni, Val Gandino, Asta del Sedio, Alto Piano, insomma una valle molto grande, però è stato possibile riuscire a costruire a questo recinto, chiamiamolo così, elettronico, di controllo degli accessi. La parte più importante del TOR era la struttura telematica, cioè la trasmissione dei dati dai dispositivi al server e viceversa. e cosa che non venne realizzata, purtroppo non venne realizzata dai tecnici di allora, come avrei voluto, in quanto purtroppo terminai il mio mandato proprio a metà dell'opera. Vabbè, oggi stiamo risolvendo quei malfunzionamenti, quelle problematiche che si sono create in quel periodo lì. Essendo poi una novità, per la provincia di Bergamo la prefettura di allora decise di coinvolgere la questura di Bergamo come sede sicura del server e per l'interfacciamento con il sistema di controllo nazionale che si chiama SCNTT, sistema centralizzato di controllo dei transiti e del traffico, con sede a Napoli. Essendo l'unico collegamento, sia il comune di Bergamo che il comune di Treviglio hanno chiesto a noi di potersi collegare attraverso il nostro canale e alla fine abbiamo firmato, giusto alla fine del 2020, la convenzione con questi due comuni grossi che abbiamo anticipato come idee. Hanno dovuto chiedere per forza a noi perché siamo stati i primi a realizzare questo tipo di collegamento. Il Toro è un'infrastruttura telematica della Valle Seriana che va monitorata ed aggiornata costantemente. Le novità che stiamo realizzando con il nuovo progetto coinvolgono principalmente la rete di telecomunicazione. Andremo a sostituire i collegamenti attuali che sono misti però prevalentemente con gestori di telefonia e li convertiremo in fibra ottica dove è possibile e dove ciò non fosse possibile metteremo dei punti radio ad alta frequenza. Nel progetto è già tutto identificato. Il server verrà spostato dal Biro nella vecchia sede della comunità montana che è baricentrica geograficamente rispetto alla questura di Bergamo e questo consente di dividere in due il flusso dati e quindi aumentare la velocità e la potenza e soprattutto anche gli accessi sono più semplici. Entrare in questura non è proprio così facile per poter operare anche per un tecnico manutentore abbastanza problematico. Mentre invece nella nostra sede di Albino è abbastanza semplice. Naturalmente con tutti gli allarmi, con tutta la sicurezza possibile questo verrà fatto, è chiaro. Il sistema poi sarà dotato di apparecchiature intelligenti che segnaleranno in tempo reale o addirittura prima che avvengano anomalie o malfunzionamenti, cosa che adesso non è. Adesso il controllo viene in modo manuale, cioè non funziona il varco, bisogna intervenire, però bisogna prima sapere che non funziona e poi intervenire, vedere quando si è intervenuti e insomma questo migliorerà parecchio la gestione. Poi soprattutto, una cosa molto importante, verrà dato l'accesso al sistema TOR a tutte le polizie locali della valle, alle estrazioni dei carabinieri della valle e naturalmente alle altre forze dell'ordine che l'hanno già. Ovviamente tutti quanti gli autorizzati potranno interrogare l'intero sistema. Voglio dire, per esempio, il comune di Fiorano, faccio un esempio, magari a titolo semplicemente significativo, non ha telecamere, però può comunque interrogare il sistema perché per motivi di indagini, per motivi di furti o di controlli relativi all'attività di intelligence della polizia, può interrogare il TOR da Bergamo a Castione e viceversa. Il sistema, oltre che al controllo dei veicoli, verrà potenziato per nuove funzionalità. Per quanto riguarda il monitoraggio del traffico, molto importante per la nostra valle, lungo la valle, è aperto ad integrazioni per applicazioni sperimentali nelle numerose località turistiche, soprattutto dell'Alta Valle. E inoltre sarà possibile collegare al server di Elbino per chi vorrà eventuali nuove telecamere acquistate dai sindaci comuni. Il progetto che abbiamo è già stato approvato, ci sono alcuni provvedi su finanziamento, ma stiamo risolvendo col BIM, però direi che questo è lo stato attuale. Contiamo di riuscire a farlo, a concludere il prima possibile, anche perché le richieste veramente del, parlo per il Comune, dove io sono assessore della sicurezza che è a Gazzaniga, le richieste di sicurezza sono sempre più frequenti e diciamo che in tantissimi casi, in quel caso si parla di videosorveglianza, ma anche lettura targhe, sono due cose che sono distinte ma si uniscono, le richieste sono veramente numerose e consentono al 90% di risolvere i problemi che prima non si riuscivano a risolvere. E a proposito di gestione del territorio a livello sovralocale, c'è anche il tema della pista ciclopedonale? Beh, è evidente che la pista ciclopedonale rappresenta il biglietto da visita del nostro territorio. La Valle Seriana è famosa per tante cose, ma sta diventando significativa anche perché ha la possibilità di sviluppare nella prospettiva qualcosa come 65 km di pista ciclabile. Abbiamo parlato prima di sicurezza, noi abbiamo cominciato a prendere in esame complessivamente la pista ciclabile partendo proprio dalla messa in sicurezza della pista ciclopedonale. Messa in sicurezza che vuol dire innanzitutto fare una verifica dei numerosi ponti che attraversano il fiume Serio, quindi verificare la situazione attuale e la prospettiva questa è stata la prima cosa. La seconda cosa abbiamo fatto un monitoraggio della situazione che esiste, quindi dagli incroci alle intersezioni con le strade, alla sostituzione per esempio delle palizzate e quindi abbiamo fatto una progettazione complessiva di tutti i settori, i segmenti chiamiamoli, della nostra pista ciclabile che ricordo parte da Rani che arriva a Clusone, da Clusone arriva a Castione, lungo la pista prima di Clusone c'è una deviazione per la Valle del Riso, c'è la deviazione per il comune di Piario e stiamo anche verificando la pista ciclabile della cosiddetta asta del Serio che parte da Parre e arriva a Valbundione. Quindi questa è la situazione della nostra pista ciclabile. In gran parte è stata realizzata, c'è una parte da realizzare, ma il vero problema è quello, come dicevo prima, della sicurezza. Cosa abbiamo fatto quindi? La prima cosa abbiamo deciso di sostituire due ponti che erano particolarmente pericolosi, in particolare il ponte di Cienega-Zaniga, anche grazie all'aiuto della Regione Lombardia e dei comuni interessati. Diciamo che è un investimento importante perché sono 400.000 euro, un investimento davvero importante, i lavori sono iniziati, stanno assemblando il ponte, verrà sostituito, verrà cambiato sostanzialmente entro la fine di ottobre. Lo stesso problema riguardava il ponte che attraverso il fiume Serio da Cienega-Zaniga-Vertova. Anche qui abbiamo fatto una valutazione, una verifica e abbiamo deciso di sostituire anche questo ponte che avrà un costo di 200.000 euro. Mentre il ponte prima è già in fase di attuazione, questo secondo ponte abbiamo fatto la progettazione e questo progetto è stato approvato dalla sopraintendenza, perché non è sufficiente fare la progettazione, ma occorre avere tutti i permessi, chiamiamo le autorizzazioni della sopraintendenza. Abbiamo affrontato e i lavori stanno partendo sulla questione della sicurezza tra pista ciclabile e strade comunali. Noi abbiamo 15 punti, diciamo delicati, chiamiamoli così, dove la pista ciclabile si interseca, si incrocia con queste strade o comunali o strade poderali. Anche qui abbiamo dato l'incarico a un tecnico e partiranno i lavori e giorni per mettere in sicurezza, quindi questo è il filo conduttore, in sicurezza questi incroci, in modo che i ciclisti che utilizzano la pista ciclabile possano essere avvisati a tempo che tra qualche centinaia di metri c'è appunto questa intersezione. La questione dei ponti non è finita, sappiamo benissimo che in estate, in una tarda primavera, c'è stato il problema dei due ponticelli di Albino che purtroppo abbiamo dovuto chiudere, anche qui però abbiamo subito dato l'incarico al tecnico per la progettazione della sostituzione di questi ponti. Qualcuno mi dirà, ma non potevate pensarci prima? Io sottolineo che è un anno e mezzo che abbiamo ereditato questa situazione, quindi la prima cosa che abbiamo fatto, senza fare valutazione su chi ci ha preceduto, però la prima cosa che abbiamo fatto è stata proprio quella di fare una valutazione, un'analisi di tutta la pista ciclabile comune per comune. Questa analisi ha portato ad una progettazione complessiva nella quale si fa menzione dei problemi gravi, colore rosso, medio gravi, colore giallo e dei bei pezzi della pista ciclabile, perché non è tutta da sistemare, con il colore verde. Quindi noi oggi abbiamo in mano la situazione concreta dei 65 km di pista ciclabile e sappiamo anche dove intervenire e in che modo intervenire e quando intervenire. Questo mi pare che sia un modo, a me pare, molto corretto di governare, perché governare non vuol dire correre dietro ai problemi, ma organizzarli, conoscerli e possibilmente prevenirli. Ecco, tutto questo lavoro è durato un anno, anche grazie all'aiuto di tutti i colleghi della Giunta della Comunità Montana e anche in particolare il collega che prima mi ha appunto preceduto, Max Erini, che è preposto la sicurezza. Quindi lavoriamo in ottima sintonia, ognuno per la propria competenza, ma per quanto riguarda la pista ciclabile il fil rouge è proprio quello di mettere in sicurezza la nostra pista ciclabile che, ripeto, è molto utilizzata e costituisce davvero il fiore all'occhiello del nostro territorio.